Amici di Unibat Italia, in compagnia di Augusto Ciardi, Teleradio Stereo, Quering Sportivo. Ciao Augusto. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi per parlare di questo Roma-Inter. Roma-Inter con la Roma che va per la nona vittoria consecutiva, Augusto. Una partita ad eliminazione diretta, come fu per il resto con la Fiorentina. Ha maggior ragione per l'Inter, perché se non dovesse farcela, anche un pareggio, probabilmente andrebbe a estromettere l'Inter in via definitiva da qualsiasi discorso legato al terzo posto. Gara delicata che si gioca all'Olimpico con qualche dubbio di formazione. La Roma ha diversi calciatori così e non al top. Tiene ancora a banco però la vicenda Totti nella capitale. Quanto può disturbare Spalletti e la sua gestione finora illuminata del gruppo e della squadra? Impeccabile la gestione di Spalletti, ritengo zero, perché non disturbò, nonostante il fragore dell'intervista di Totti Roma-Palermo, la Roma da quel momento in poi ne ha vinte praticamente altre quattro. Luciano Spalletti è sul pezzo, credo che questo sia un discorso che riguardi soltanto il giocatore Totti e il presidente della Roma-Pallotta. L'autentico mattatore. Questa fase finale di stagione alla fine sarà un girone intero però. Con Spalletti quindi un consuntivo si dovrà fare, è una squadra trasformata nella testa, nelle gambe, sicuramente nello spirito. Contro l'Inter ti aspetti nuovamente Dzeko, titolare che si è sbloccato a Udine, ha fatto vedere per la prima volta un certo tipo di lavoro, quello che gli si chiede. Oppure ritorno all'attacco leggero? Con l'attacco leggero la Roma gioca meglio, con Dzeko in campo tra Madrid e Udine ha confezionato comunque una tozzina di palle gol. Dovessi puntare un euro oggi mi aspetterei di nuovo l'impiego di Dzeko dal primo minuto, a quel punto il dubbio sarebbe a centrocampo perché uno tra Pjanic, Nainggolan e Chetà sarebbe di troppo. E invece se dovessimo puntare un euro con Unipat Italia per il pronostico per vivere una Pasqua più serena, caro Augusto, prima della sosta? Ne puntiamo 10 e punto l'1 con gol e over 2,5, forse anche 3,5. 1, gol e over 2 o 3,5. Andiamo con la combo salutando tutti gli amici di Unipat Italia, grazie a voi da Dario Bersani e Augusto Ciardi. Alla prossima!